Mi passi il neglizé? No, il neglizé. Il neglizé. Non sai che cos'è un neglizé? Sono stato cresciuto da due animali e a loro non piacevano le domande, erano mal tollerate. Dovevo indovinare. Tu puoi chiedermi qualsiasi cosa? Qualsiasi cosa? Quello cos'è? Quello è un albero. Sì. E le macchine. Un altro palazzo come questo. Giusto. Le persone che ci vivono sono come noi. La metà pensa che le cose non funzioneranno mai. L'altra metà... ...crede nella magia. C'è una specie di guerra fra loro. E come fai a sapere tutte queste cose sulla gente? Beh, so quanto basta per leggere le loro facce. Per esempio... ...questa è arrabbiata. Felice. E a volte non è niente. Quella? Questo è niente. E sono bravi ad apparire in un modo ed essere in un altro modo. Tu non mi conosci. Questo mi piace. No, non è vero. Ah sì? Sì. Hai i capelli biondi lunghi fin qui. Sì. Fumi dove hai vietato fumare. A volte morti. Aspetta. Ok. Adesso apri. Ah sì. Tu guidi sui marciapiedi. Sei stato cresciuto da animali. A volte sembri molto solo. Come se fossi appena arrivato. Hai visto? Non mi conosci affatto. Una donna affascinante entra nella tua vita e tu te ne innamori alla follia. No, non funziona così. Ci sono altre fasi. È complicato. Sì. Anch'io. Che è successo con Michel?